Ammettiamolo, al di là del mezzo passo falso della scritta città di Lucca davanti a Porta Santa Maria, effettivamente poco natalizia, Lucca non ha mai avuto un'illuminazione tanto suggestiva da diversi anni. Il merito va dato all'entusiasmo e all'energia con cui il nuovo giovane presidente del Centro Commerciale Naturale Matteo Pomini e l'assessore al commercio Valentina Mercanti hanno portato avanti questo progetto e ovviamente a tutti quei commercianti che vi hanno aderito. Ma non è mancato il sostegno anche dell'opposizione in consiglio comunale. A più riprese infatti l'assessore Mercanti ha ringraziato pubblicamente il consigliere Marco Martinelli per il supporto dato all'iniziativa, soprattutto per quanto riguarda i quartieri fuori dalle mura. E allora, percorrendo il centro di Lucca e via Fillungo, non si può far altro che parlare di occasione persa. Perché immaginare un Fillungo che si presentasse come appaiono adesso via Santa Croce, via Del Moro e anche via Sant'Andrea e trovarlo invece anonimo, anche nelle stesse decorazioni dei singoli negozi per cui l'amministrazione comunale aveva lasciato praticamente carta bianca, lascia la mano in bocca. Un segnale andava dato sicuramente, come più volte ripetuto, anche dagli stessi commercianti della strada principale del centro e francamente ci auguriamo che, alla luce di quello che è stato il risultato nel resto della città, questo segnale sia arrivato chiaro e forte.